Musica Ha preso il via questa sera, 28 novembre 2015, la prima edizione di Sposiamoci 2015, Wedding Fire, che si terrà questa sera e domani presso l'hotel Montesarago. L'evento è organizzato dalla 4Events, nuova società di eventi creata da tre ostunesi. Apriamo i battenti di questa kermess, Sposiamoci, dove vede vari stendisti che orienteranno i futuri sposi nel meglio del giorno più importante della propria vita. Come vediamo alle mie spalle abbiamo Comes, Atelier di Abiti da Sposa, Uomo-Donna, abbiamo Petrelli, abbiamo Idea Sposa, abbiamo le bomboniere di Euroargenti, abbiamo le bomboniere di Stella Bomboniere, abbiamo tre fotografi, Wick Mac che sono di Lecce, Hobby Photo di Carovigno Francesco e Euforia di Francavilla Fontana, abbiamo l'azienda fioristica Via Focazzaro, Bidi di Bodi di Bù, abbiamo Angelini, azienda leader per arredamenti di Fasano, abbiamo Barbaro Band che allieteranno veramente in modo esaustivo questa due giorni, essendo un massimo di otto elementi, poi avremo Salento Spettacoli che cura animazione sempre per matrimoni, quindi entriamo nel vivo di una kermess alquanto piena in tutto questo. È uno show perché noi domani sera, serata clou di questa kermess, ci sarà la sfilata di abiti da sposa e poi vogliamo trattenerci a dire il resto perché vogliamo che la gente venga e guardi con i propri occhi quello che siamo riusciti a fare. Comunque teniamo a precisare, tengo a precisare, che questa kermess gira tutto intorno al territorio di Ostuni dove noi comunque puntiamo molto su questa città e vogliamo che sia un brand che vada avanti negli anni come fiera sposa e speriamo che abbiamo un'ottima affluenza.